Ciao a tutti, oggi vi faremo vedere l'aggiornamento dei cuccioli che ci sono stati segnalati a Polistena dai vigili di Polistena, eccoli qua La settimana scorsa e la settimana sono in tutt'altre condizioni, adesso ve li facciamo vedere da vicino non hanno più pulcini e zecchi, hanno preso un po' di peso e sono tre meraviglie Proprio a tre meraviglie, l'abbiamo ritrovati, oggi è venerdì Guarda che differenza, guarda Sì, guarda, è meraviglioso, oggi è sabato, e l'abbiamo ritrovato dopo solo i sei giorni Dobbiamo dire pure una cosa, come mi viene la signora Sì, la signora Angela è bravissima, io poi, vabbè, questa qui Pandora io la amo Aspetta, facciamoli vedere meglio Tre meraviglie, sono anche profumati Sì, sono profumati perché la signora, il problema della signora è E quando veniamo a prenderci che conosce lo stallo, e allora c'è da piangere veramente E comunque loro sono bellissimi Sono bellissimi, domani? Sono più affettuosi e non hanno paura, perché ora hanno il contatto umano E la signora lì a carezza, le fa dormire con lei, e quindi stanno bene Domani faremo il primo vaccino, e poi ci sarà il secondo, e poi potranno anche loro venire al rifugio Ma penso che ci saranno pochissimo, e sono talmente meravigliosi che saranno strarichiesti Sono future taglie grandi, loro Diciamo un mare in mano nero, neri, è una cosa bellissima Ma guarda che sono veramente tre meravigliosi Oh, e io? Il mare in mano è bianco Eh no, quando sto bianco lui Lui è quello col cipiglio Sta per i fatti suoi Lui è quello cattivo Non ci dà confidenza Però adesso vederli così, senza pulci, senza azzecchi Una gioia, una gioia immensa vederli così E profumati, che hanno un profumo bellissimo Lavati e spulciati Dai, vi facciamo vedere qua da vicino Adesso allora, Loris, no, guarda, aspetta Perché voglio far vedere anche il resto del corpo, che finalmente è pulitissimo E meraviglioso Sì, anche questa mano, guarda, guarda qua Guarda che pancetta, guarda che pancetta bianca adesso E io prego, io scusa, e quello cattivo, eccolo qua Eccolo, non c'è più neanche una zecchetta addosso Lui era pieno di zecchetti che camminavano Eh, tutti e tre Va bene, è una gioia trovarli così Veramente io mi sento immensamente felice per questa cosa Guarda qui Questo è quello che noi facciamo sempre E avervi lasciati là Ah sì, insolvono questa Loro, quelli che stavano su Roscello Abbiamo quella foto, soltanto quella foto No, abbiamo incontrato questo che aveva segnalato invece Ti ricordi? Sì Ok Comunque, ecco qua, aggiornamento Loro stanno bene e saranno vaccinati tra oggi e domani Questa sta in posa, lei sta in posa Guarda come sta Ehi, sembra Maurizio Costanzo Sì, è vero, si è fatta molto piccicciottella lei E gli ha anche un po' cresciuto il peso E la moremia Pandora? Lui è che ne ha un nome, sai? Ok Ciao a tutti Questo è un aggiornamento Poi ve li faremo vedere con il primo vaccino Va bene? Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti